Sono appena uscite nuove rivelazioni che non solo gettano nuova luce sulla relazione tra Jeffrey Epstein e Bill Gates, ma anche sul modo in cui Epstein operava, cioè su come era in grado di tenere sotto controllo informazioni sensibili di individui ricchi e potenti. Queste rivelazioni arrivano sotto forma di nuove email e di nuovi documenti esaminati dal Wall Street Journal, che rivelano come Jeffrey Epstein, dopo aver scoperto che Bill Gates aveva una relazione con una giovane russa, avrebbe usato questa informazione compromettente per minacciare Bill Gates, che all'epoca era sposato. Ma in realtà la questione è molto più profonda. Ma prima di andare avanti, devo specificare che noi di Epoch Times non abbiamo avuto accesso a queste email. Quindi dobbiamo fidarci della parola del Wall Street Journal, rispetto al contenuto delle email stesse. Allora, a quanto pare, oltre a voler iniettare un vaccino nel braccio di ogni singolo essere umano sul pianeta Terra, il signor Bill Gates ha un altro hobby, giocare a carte. Nel 2010, Bill Gates ha partecipato a un torneo di Bridge dove ha incontrato questa ragazza. Si chiama Mila Antonova, ed è una giovane russa appassionata di Bridge. Ecco come la descrive il Wall Street Journal. Il cofondatore di Microsoft ha incontrato la donna intorno al 2010, quando lei aveva 20 anni. Gates ha dichiarato di aver imparato a giocare a Bridge dai suoi genitori, e che giocare a carte è uno dei suoi hobby preferiti. Gates giocava con la Antonova, a sua volta appassionata del gioco. Secondo il suo profilo LinkedIn, la giovane ha frequentato un'università in Russia tra il 2000 e il 2005, in seguito ha fondato un club di Bridge negli Stati Uniti, prima di assumere diversi ruoli come ingegnere informatico nell'area di San Francisco. C'è un breve estratto di un discorso che questa ragazza ha tenuto, poco dopo la partita del 2010, in cui racconta come è stato giocare contro Bill Gates. E qui le cose prendono una strana piega, come si diceva una volta. Perché, secondo il Wall Street Journal, Bill Gates, che all'epoca era sposato, e la giovane Antonova ebbero una relazione. Ripeto, il Wall Street Journal non ha messo a disposizione le email utilizzate per avvalorare questa tesi. E la signorina Antonova ha rifiutato di commentare. Ma andiamo avanti. La signorina Antonova a un certo punto ha un'idea, una start-up digitale per insegnare a giocare a Bridge. Un portale online con esercitazioni per giocatori, sia principianti che esperti. A tal fine, la donna cercava finanziamenti, ossia mezzo milione di dollari di investimenti. Ed è qui che uno dei consiglieri di Bill Gates interviene e crea un collegamento cruciale. Il consigliere in questione si chiama Boris Nikolik. È uno stretto consigliere di Bill Gates. Secondo l'articolo, la Antonova aveva l'idea di avviare un'attività online per insegnare a giocare a Bridge, e cercava fondi per realizzarla. Boris Nikolik, consigliere di Gates e, all'epoca, consulente scientifico di alto livello, che conosceva anche Epstein. La Antonova e Nikolik si incontrano nella casa di città di Epstein nel novembre 2013, dove la donna presenta la sua idea a Epstein, che le dice cosa ne pensa. La donna voleva raccogliere 500.000 dollari per il progetto, che aveva chiamato Bridge Planet, la cui mission era quella di promuovere il bridge creando tutorial di qualità per i giocatori principianti e avanzati. Il 9 novembre, la Antonova scrive un'email a Epstein per ringraziarlo dell'incontro e di aver ascoltato la sua proposta. Ma alla fine, Epstein non investì nel progetto. La signorina Antonova ha dichiarato di non avere avuto idea, in quel momento, di chi fosse Jeffrey Epstein. Io non avevo idea che fosse un criminale o che avesse un secondo fine. Pensavo solo che fosse un uomo d'affari di successo e che mi volesse aiutare. Sono disgustata da Epstein per quello che ha fatto. Andiamo avanti. Nonostante non avesse voluto finanziarla, sembra che Epstein, per qualche motivo, continuasse a vedere se stesso come una specie di benefattore per questa giovane donna. Ad esempio, l'anno successivo, nel 2014, la signorina Antonova soggiorna per un breve periodo in un appartamento di New York messole a disposizione da Epstein. Ma lei dice che, mentre si trovava lì, non aveva interagito né con lui né con nessun altro. Ma dopo aver visto il suo progetto fallire per mancanza di finanziamenti, la signorina Antonova decide di cambiare direzione e di intraprendere una carriera nella programmazione informatica. Cosa che riesce a fare grazie a un'istruzione pagata da Jeffrey Epstein. Ecco cosa dice il Wall Street Journal. Dopo non essere riuscita a ottenere i finanziamenti per Bridge Planet, Antonova ha detto di aver deciso di diventare una programmatrice e di aver chiesto a diverse persone di prestarle i soldi per un corso di programmazione. Epstein ha accettato, e ha pagato direttamente la scuola. Non c'è stato alcuno scambio. Non so perché l'abbia fatto. Quando gliel'ho chiesto, mi ha risposto che lui era ricco e voleva aiutare le persone quando poteva. Rivediamo la cronologia dei fatti. Secondo questo articolo, Bill Gates incontra questa giovane donna a un torneo di Bridge. Poi i due hanno una relazione. Bill Gates la presenta a Jeffrey Epstein per aiutarla a ottenere un finanziamento, che però non arriva. Ma Jeffrey Epstein inizia a fare da benefattore a questa ragazza, dandole una casa a New York e pagandole i corsi di programmazione. Tutto sommato, niente male per la ragazza. Ma sembra che il signor Epstein abbia un suo piano, che va oltre il ruolo del simpatico zio ricco. Perché, mentre tutto questo accade, Epstein cerca di sfruttare la sua relazione con Bill Gates per creare un fondo multimiliardario presso la JP Morgan Chase. Un fondo di beneficenza che frutterebbe a Epstein milioni di dollari in commissioni, e che contribuirebbe a riabilitare la sua immagine, visto che è stato condannato e segnalato come violentatore. Leggiamo. All'epoca, Epstein voleva creare un fondo di beneficenza multimiliardario con JP Morgan, che avrebbe messo insieme i soldi di alcune delle persone più ricche al mondo. Epstein propose a JP Morgan di istituire il fondo con un contributo minimo di 100 milioni di dollari per individuo, e di pagare a lui, cioè a Epstein, milioni di dollari in commissioni. Oltre alle commissioni, il finanziere caduto in disgrazia vedeva nel fondo un modo per riabilitare la propria reputazione, secondo le persone a cui aveva raccontato la sua idea. Ma tutto dipendeva dall'appoggio di Gates. E quest'ultimo punto è assolutamente cruciale. L'intero progetto di Epstein si basa sul sostegno di quello che in quel momento è l'uomo più ricco del mondo, Bill Gates. Ed Epstein sembra voler sfruttare questa relazione fino al limite. Leggiamo. I messaggi di Epstein ai dirigenti della banca, costellati di errori di battitura e di ortografia, cercavano di dare l'impressione di essere uno stretto consigliere di Gates. Gates non è incluso nelle email esaminate dal Wall Street Journal. Ed ecco alcune delle email inviate da Epstein ai dirigenti della JP Morgan Chase. In sostanza, questo fondo permetterà a Bill di avere accesso a persone, investimenti, allocazione e governance di qualità superiore senza turbare il suo matrimonio o la sensibilità degli attuali dipendenti della fondazione. È il 16 agosto 2011. Un'altra email. Bill è terribilmente frustrato. Vorrebbe potenziare alcune delle cose che funzionano senza togliere quelle che non funzionano. È il 17 agosto. Poi, il 2 ottobre, Epstein invia un'altra email a questi due dirigenti criticando una presentazione che JP Morgan aveva preparato riguardo a questo progetto. La presentazione non è fatta su misura per Bill. Lui è l'unica persona, l'unica, che conta. Ma dopo diversi mesi di tira e molla tra Epstein, Gates e i banchieri della JP Morgan Chase, questo progetto del fondo di beneficenza fallisce. E questo porta a una sorprendente rivelazione su come opera Jeffrey Epstein e su come funziona l'intera operazione di influenzamento. Leggiamo. Diversi anni di discussioni con JP Morgan, Gates, e altri, non riescono a ottenere il fondo di beneficenza per Epstein, né l'impegno di Gates. Nel 2017, Epstein contatta Gates per la giocatrice di Bridge russa, anni dopo la fine della relazione, chiedendo per email, secondo dei beni informati, di essere rimborsato per il corso di programmatore della Antonova. La somma era irrilevante per i due, e il tono del messaggio era che Epstein sapeva della relazione e poteva far scoppiare lo scandalo. Il corso di programmatore era costato 10, 20, forse 30.000 dollari al massimo, a seconda di dove si teneva. Per due uomini che possiedono centinaia di milioni di dollari, o miliardi di dollari, i soldi non sono nulla. Sono letteralmente spiccioli. Pare che Epstein abbia tirato fuori il pagamento della scuola solo per ricordare a Gates di sapere cose compromettenti. Un portavoce di Bill Gates dice che questi non ha mai rimborsato alcun pagamento simile a Epstein. Ma forse, Gates avrebbe dovuto ascoltare sua moglie. Ecco Melinda Gates che parla di Epstein poco dopo il divorzio da Bill. È di pubblico dominio che Bill avesse un'amicizia o un rapporto d'affari, o un qualche tipo di contatto con Jeffrey Epstein e che lei non fosse. Questo la turbava molto. Questo c'entra col divorzio? Sì, non è stata una cosa sola. Ci sono state molte ragioni. Ma non mi piaceva che avesse avuto incontri con Jeffrey Epstein. No. E lei glielo aveva detto chiaramente? Sì, glielo avevo detto chiaramente. Ho anche incontrato Jeffrey Epstein una volta. Davvero? Sì, perché volevo vedere chi fosse quest'uomo. E me ne sono pentita dal momento in cui ho messo piede in quella stanza. Era ripugnante. Era il male in persona. In seguito ho avuto degli incubi. Mi si spezza il cuore per quelle giovani donne. Perché l'ho provato anche io. E io non sono più giovane. Mio Dio, mi sento malissimo per quelle giovani. Orribile. Appena entrata, non avevo capito che fosse così orribile. Eh sì. E lei lo ha detto a Bill, ma lui ha continuato a vederlo. Se ci sono domande su quale fosse il rapporto con Bill, è Bill che deve rispondere. Ma io dissi chiaramente cosa pensavo di lui. Dal canto suo, quando in un'intervista a Bill è stato chiesto a bruciapelo del suo rapporto con Epstein, la sua risposta ha lasciato un po' più a desiderare. I giornali hanno scritto che lei ha continuato a incontrarlo per diversi anni, diversi incontri. Lei cosa ha fatto quando ha scoperto il suo passato? Come lei sa bene, io ho già detto che mi sono pentito di aver organizzato quelle cene. E non c'è nulla, assolutamente nulla di nuovo su questo. C'è una morale da trarre per lei o per chiunque altro? Ormai è morto. Quindi, in generale, bisogna sempre stare attenti. E sapete, il... sapete, io... io sono... Se volete approfondire questa storia, le fonti sono nella descrizione sotto il video. In chiusura, vorrei denunciare quello che è successo alla nostra consociata NTD Television, che ha realizzato un nuovo documentario, intitolato The Unsink Crisis, sulle persone danneggiate dai vaccini. A prescindere dall'opinione che ognuno può avere, è obiettivamente un tema importante, storie di vita reale, di persone che hanno fatto il vaccino, seguendo tutte le istruzioni ricevute dal governo, e che purtroppo sono rimaste gravemente danneggiate. E poi sono state completamente ignorate dalle istituzioni. Nel giro di pochi minuti dal caricamento, il trailer del documentario è stato eliminato da YouTube. YouTube ha fatto sparire, in un istante, il trailer di un lavoro giornalistico serio, fondato su fatti reali, che ha richiesto sei mesi di lavoro, e di viaggi in lungo e in largo in tutti gli Stati Uniti. Pensateci, la realtà dei fatti, la verità, e il dolore delle persone non contano nulla per loro. Un algoritmo arriva, individua alcune parole chiave che non gli piacciono, ed è finita. I cittadini non hanno più accesso a quelle informazioni. Ma queste sono cose che sappiamo già. Se volete vedere il documentario, The Unsink Crisis, senza censure, potete trovarlo su Epoch TV. Il link si trova proprio in cima al riquadro di descrizione qui sotto. Arrivederci alla prossima dal vostro Roman di Epoch Times. Mi raccomando, rimanete informati. Ma soprattutto, rimanete liberi. Grazie a tutti.